Se io adesso provo così ad avviare il gioco The First Sentent, mi esce così questo errore all'avvio riguardo all'easy anti cheat che non si è avviato anche assieme al file gson trovato. Quindi in questo caso è possibile fare questa procedura per risolvere il problema, quindi usciamo un attimo dal gioco e andiamo direttamente sulla rotella qua, impostazioni, gestisci, vai direttamente su proprietà, vai su file installati, verifica integrità dei file del gioco. Poi una volta fatto questa verifica, quindi eseguiamo così come amministratore, facciamo sì e assicuriamoci che convalidi così tutti i file li riscarica, quindi scarica e ripristina così i file nella cartella, quindi non ci resta che aspettare e poi passare al prossimo procedimento. Due file non sono stati convalidati e verranno riscaricati. Una volta fatto, chiudiamo un attimo, andiamo direttamente su sfoglia i file locali, entriamo direttamente nella cartella dell'easy anti cheat, easy anti cheat, trottino basso install.bat, ci clicchiamo sopra e facciamo sì. Se non dovesse funzionare facciamo un install E poi facciamo install Se non dovesse funzionare ancora, tasto destro su easy anti cheat, questo qua, mostra attropazioni, proprietà, attributi, togli la spunta, solopettura, compatibilità, esegui questo programma come amministratore, modifiche impostazioni per tutti gli utenti, quindi Esegui questo programma come amministratore, chiudiamo un attimo qua, modifiche impostazioni dpi elevati. Ora, puoi fare un test, quindi se tu abili il dpi programma e esegui l'override, sistema avanzato, metti la spunta su questi due e prova ad avviare il gioco. Se non si avvia, togli la spunta qua sopra e fai ok e fai applica. E adesso proviamo ad avviare il gioco. Ora l'easy anti cheat è tornato a funzionare. Ora l'easy anti cheat è tornato a funzionare. Il gioco si sta avviando senza nessun problema. Il gioco si è avviato. Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. Abbiamo risolto così l'errore riguardo all'easy anti cheat. Ci sono altre guide riguardo al gioco, quindi su come risolvere il problema all'avvio o all'errore M1-Steam. Quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!